Girovalla per Scesdi, sigilla così la vittoria alla Juve, la vittoria numero 12 scavata. Così, così, con la sofferenza ma anche con una gestione tattica della partita perfetta. Oggi Pirlo ha incartato con seca e intanto Terzi in classifica. VAMOS JUVE! VAMOS JUVE! Scesdi difesa con Danilo Bonucci, Chiellini, Alessandro, Mediana con McKennie, Artur, Rabiot, Chiesa. In attacco Morata ovviamente è Cristiano Ronaldo. Se si batte la Roma si scavalca proprio i giallorossi, si va al terzo posto in classifica e allora vincere questa partita è imperativo, categorico, assoluto. Per la Juve, la mia personale live reaction di Juventus Roma. Juventus Roma, ventunesima serie a team, live reaction fino alla fine. VAMOS JUVE! Dai ragazzi, su, forzo Dina che non gliela facciamo al partito. Dentro per Cristante, al limite Mancini. Buona palla di Cristante per Carstof, al limite Mkhitaryan. Dentro con il tacco verso Borca Maiorale. Pirini voleva rinviare, si virgola tutto. E di fatto serve Scesdi in maniera volontaria. Invece capisce tutto Alessandro che blocca e riparte ancora. Anche con tanto campo, per che caso, a qualche punto, è più avanti. Infatti deve andare Cristante a fermare il brasiliano. Che però passa allo stesso cuore. Ora Alessandro... Quanto alla staltra parte... La mette al centro per Morata, al limite per Ronaldo, Ronaldo col sinistro... Sìììììììììììì! Tiroso scegliare! Dai! Dai! Ronaldo Cazzo mondo E' un po' troppo rischia di perderla su Cristante Scesse allontana Bravo Bravo Alex ed anche Sandro Sì Sieduto 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 E' Cristante Porco mondo ladro Codinna ladro che tiro ha fatto E quindi i rimpalli Sono spesso a favore di giallorossi La pallacate dall'alto Codinna 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 Fai Federico vai a testa bassa vai Caccio mondo Uomo uomo chiametegli l'uomo Artur Bravo Vai 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 Gioca 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 Dai Alvaro Morata prova a servire il portoghese Yo Porco zio ladro Impestato che traversa Yo Porco mondo ladro Oh Mamma mia Mamma mia Porco di ladro Poi Mancini che è arrivato Artur Con la palla incollata al piede Vada Alessandro Che scende Moratas Buono Poi Rabiot Porca puttana Ammonito Ammonito Chi ha va in porta Rabiot Cazzo di Buddha Contraste nella rivista Stanno 4 stretti In mezzo al campo E quindi Quinti Capto e Spinazzola Hanno molto margin Molto spazio Oh Poi Cristiano Smina 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 Porco zio ladro Cazzo mondo Cazzo mondo Lancio lungo Un volo in ritardo E Ronaldo A cercare la porta Funzione di Baronio Danilo Cinque secondi in più Finisce il primo tempo Il possesso palla Alla Roma I tiri Alla Juve Alla fine l'1-0 C'era pure stretto VAMO SIUVE A Juve Buona azione della Roma Spirazzola 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 La palla finisce a Spirazzola Che non si ha quotato nel corner Sì Mezz'ora Sì C'è il volo di Ronaldo che non trova Però Compagni Allora Mancini Si muove Carles Perez Fa la lunga verso Geco Che prova a fare la torre per l'ex Barcellona Può provare pure il volo Carles Perez Un altro momento A chi guida Buono Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiink Siiiiiiiiiiiiiiii Siiiiiiiiiii Andri dai grazie dai come ti dicevo eh giro palla mamma mia mamma mia signora mamma mia signora mamma mia signora spalla a Spinazzola una opportunità uno contro uno si sposta Spinazzola per calciare facile per scesi palla verso Clutes che non la tiene caccio mo' bravo e lo ha chiuso a vittoria numero 12 così così